Le voci sul loro turbolento rapporto sembrano svanire, mentre Stefano De Martino e Belen appaiono sereni e distesi durante l'evento allo stadio Maradona. L'ex ballerino è stato il presentatore della serata, seguendo attentamente la partita accanto alla sua famiglia, compresa Belen. Nonostante le incertezze sul loro futuro insieme, la coppia sembra affrontare i rumors con naturalezza, godendosi la passione per il calcio e celebrando il trionfo del Napoli dopo la partita contro la Sampdoria. Questa notte storica segna un altro capitolo dell'intensa e travagliata unione tra Stefano e Belen. La carriera televisiva di Stefano De Martino è inarrestabile, grazie anche all'intuizione del suo mentore, Stefano Coletta. Tuttavia, ciò ha comportato il suo trasferimento permanente a Napoli. Nel frattempo, Belen e i suoi figli continuano a vivere a Milano, nel cuore delle attività televisive e imprenditoriali del clan Rodriguez. Belen si è mostrata sicura e disinvolta al fianco di Stefano e della sua famiglia durante la partita. Con loro, il figlio Santiago, per festeggiare la vittoria del Napoli, un risultato tanto atteso e conquistato sul campo. La showgirl indossava un abito della sua nuova linea di moda, Mar de Margaritas, che ha presentato al pubblico durante l'evento. Con i capelli raccolti e un sorriso sul viso, Belen ha mostrato una complicità evidente con il figlio e il compagno. De Martino ha vissuto la partita con grande passione, abbracciando suo padre come fosse una liberazione. L'amore tra Belen e Stefano è ancora un mistero da svelare, ma per ora sembrano essere uniti nella loro passione per il calcio e nel tifo per il Napoli. Sarà questa la chiave per il futuro della loro complicata storia d'amore? Continua a seguirci per rimanere sempre aggiornato su tutte le news, lascia un mi piace al video, e attiva la campanella per non perdere i prossimi aggiornamenti. In questo modo ci aiuterai a crescere, e darti informazioni sempre approfondite e in tempo reale.